Alba, ti devo dire una cosa importante. Io ti chiesto nel tribunale, lurido bugiato! Alba, ti... Mi spiegate che sta succedendo. Ma certo, la figlia segreta di Lucio Nure. Che simpatico felpone che hai. Ti vesti da McDonald's? Ah, bella. Viniciamo noi due. Ma c'è che ansia, pensavo fossi mia madre. Cassandra ti presenta le fondine, la mia amichetta del cuore. Hai visto più pisali tu che la zuppa del casale, matta. C'è scritto figa sulla fronte. Il mio segnale, cateniamo l'inferno! Pensavo avessi più coraggio, invece porti la maschera. E sai perché? Perché hai una paura fottuta di sapere quello che vuoi veramente. Sono una casa strafatta. Mentre mia madre e mia sorella sono in un letto di ospedale. Io dico basta! Che cazzo ha trafettuto? Niente! Cavolo, ma è solo 16 anni. Io e te siamo cugini di primo grado. Alba! Lui sapevamo che c'erano dei problemi col bilancio. Vado sul sicuro. Certo che pure per tuo cugino ogni buco ha una trincea però, eh? Cassandra, è il nome insolito per una ragazza così carina. Lei che sei venuta fin qui a predire terribili sventure? Tanto non te la dà! Rара! No, 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 no No, no, no Rumba! No, 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 no Come on! No, 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 no No, no, no No, 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 no no